Allora, la canzone è arrivata, io l'ho ascoltata, mi è piaciuta moltissimo, poi mentre le incidevo è arrivato Giuliano che si è commosso. Ornella Vanoni canta Giuliano San Giorgi, ma anche Renato Zero, Carmen Consoli, Francesco Gabbani, Pacifico e Fabio Ilacqua sono gli autori di Unica, ha il suo nuovo album prodotto da Mauro Pagani, che arriva in un momento difficile per il mondo, ma che anche per lei non è stato facile, colpita dal Covid meno di tre mesi fa. Si è presa un bello spavento, ha avuto paura? Io non ho quasi mai paura, perché c'ero durante la guerra, la paura l'ho avuta già con le bombe, mi posso preoccupare, mi preoccupa, però non ho paura. Unica contiene anche un inatteso duetto con l'attrice Virginia Raffaele. Lei è proprio unica, è la più brava di tutti, perché insomma in questo mondo, direi abbastanza mediocre ormai, lei brilla. Siete davvero affiatatissime, pensare che all'inizio non aveva digerito l'indazione che Virginia aveva fatto di lei, si ricorda il suo disappunto? Ehi, ho mai rovinato la vita, mi hai rovinato la vita, fermo una rimbambita. Ma cosa ti ha preso? La gente cosa deve pensare? Un'imitazione portata a Sanremo, quello stesso palco sul quale Ornella si prepara a salire per il quarto anno consecutivo, una volta in gara, tre volte come superospite. E allora che Sanremo sia col pubblico sulla nave da crociera o senza. Ah, per me anche in barca, anche la barca, adoro la barca, i cantanti ognuno suona a barca, è fantastico, a Remi. Grazie. Grazie. Grazie.